Ciao a tutti e benvenuti a questo video di Magies of Lotus, oggi vi porto il nostro commento più tecnico a i vari spoiler che stanno uscendo in questi giorni di Murders at Carlo Manor Nel altro giorno abbiamo portato il commento a secco dopo la live della Wizard con appunto commentini vari su alcune spoiler usciti durante la live qua invece appunto andiamo a vedere queste carte che secondo noi possono magari dire la loro in qualche formato e quindi rispondere alla domanda da titolo, ma queste carte cambieranno i formati? Vediamo assieme, facciamo un ragionamento come al solito Ma prima di cominciare vi invito a lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi al canale e soprattutto abbonarvi o qua nelle varie TR quindi su YouTube o su Twitch con gli abbonamenti che c'è anche quello gratuito se volete con Amazon Prime è molto importante per noi perché ci permetti di mandare avanti tutto e poi c'è anche il codice sconto Lotus 5 che vi dà il 5% di sconto sui prodotti non già scontati comfattetestore.it che sono velocissimi a spedire e soprattutto hanno tanta roba Cominciamo perché se no poi viene lunghissimo e devo fare tanto bla bla Allora, la prima carta che vi presento è un Hancombo per quanto possa sembrare strano Tanto guardate che bella la versione quella scheda criminale, scheda dati Che è persuasive interrogators Costo 6 quindi tanto Con anche doppio nero 4 e 2 Abbiamo un 5 e 6 gorgone Che quando entra crea un clue E voi dite ma sei impazzito cosa fa di così figo sta carta Eh ma il secondo pezzo che è interessante Quindi colta noi sacrificiamo un clue Un avversario bersaglio si becca due segnalini poison Quindi sono quelli di infettare per intenderci Quando un giocatore ne ha 10 muore Allora questa carta ovviamente non è pensata Secondo me per i costruiti normali a 60 carte Perché il power level è troppo basso E non si riesce a gestirla bene Perché non si fa in tempo Ma in commander è già pieno appunto di mazzi Token generator che possono creare ad libidum Tantissimi clue Non c'è neanche bisogno di andare infinito Basta farne davvero tanti Per farci le belle porcherie con questa Quindi voi create tantissimi token clue E poi l'effetto guarda che si sono sacrificati Non importa se si sono sacrificati sul loro stesso effetto Cioè paga due mana, pesca Le puoi anche semplicemente sacrificare su carte Che adesso non lo so Non deve essere per forza questa Però per farvi un esempio Il ravager è quello commodulare Che vi fa sacrificare gli artefatti al zero Capite bene che con 5 clue Voi fate fuori un avversario Fare abbastanza clue per fare fuori tutto il tavolo Non è difficile Anche due su tre Cioè ragazzi davvero non è complicato E considerate che appunto I clue si fanno in maniera davvero facilissimissimissima Tireless tracker Faccio una fetch Sono già due clue Con quello che mi dà questa carta stessa Sono tre clue Più altri che ho fatto Capite che già sta a metà strada Per uccidere un player E quindi questo davvero secondo me È una carta che soprattutto Cioè anzi Esclusivamente in commander multiplayer Può dire la sua Ma anche a livello un pochino più competitivo Perché ripeto Mazzi token fatti bene Che ne buttano tantissimi per terra Ce ne sono Quindi tenetela d'occhio Perché secondo me È un uncommon che Da qualche parte la vediamo Poi Intrude on the mind Questa abbiamo fatto il sondaggio sul canale Chiedendovi se fosse una carta bomba O una Brutta Secondo me non è male Ha un ottimo potenziale Non è una carta 4x Ma è molto interessante Praticamente per chi è più esperto Poi la leggo ovviamente per tutti È un effetto fact of fiction Con in più il fatto di generare una creatura Adesso leggiamo assieme E capiremo tutti quanti che vuol dire Quello che ho appena detto Costo 3 più 2 blu Abbiamo un istantaneo Quindi very good Perché non dobbiamo farla nel nostro Riveliamo le prime 5 carte del nostro grimorio E noi le separiamo in due pile L'avversario sceglie una di quella pile E la pile a scelta Viene messa nella mano L'altra invece nel cimitero Per ogni carta messa nel cimitero In questo modo Noi creiamo un tottero Che ha più 1 più 1 Per ogni carta che appunto è stata Mata cimitero in questo modo Non è male Perché noi facciamo delle pile Tendenzialmente con il power level simile E quindi tendenzialmente faremo Tappo 5 a istante Metto 2 o 3 carte in mano E genero un token A flash Perché il token appunto Entra a istante Insieme a tutto il resto Che sarà un 2-2 Un 3-3 Poi ovvio ragazzi Possono fare cose spicy Tipo Una pila da 4-1 Con la carta Molto forte Che l'avversario Non ci vuole assolutamente dare Nella pila da 1 E le 4 carte Diciamo Deboline O che ci interessano di meno Dall'altra parte L'avversario Non ci darà mai La carta Incredibilmente forte Che lo distrugge Quindi noi peschiamo 4 E facciamo un 4-4 Che è davvero fortissimo Poi magari quelle carte Non saranno il massimo Magari sono due terre Una spell così così Una spell decente Però capite che l'altro dice Cavolo se l'altro In mezzo spell risolve Se è un proprio morto E quindi voi fate un grosso value Non è male Soprattutto considerate Come un pacchetto a instant Secondo me è abbastanza una bomba È abbastanza una bomba Soprattutto per i formati Più lenti Stile standard E così via In cui si riesce più spesso A fare delle pile bilanciate E quindi portarsi a casa Capra e cavoli Avere sempre delle carte buone Più una creatura Che può fare anche un blocco a sorpresa Perché comunque Voi potete decidere Quanto minimo sarà grosso Il tottero Perché se la pila più piccola Ha due carte Vuol dire che il minimo Sarà un 2-2 Quindi gioco forza Può fare dell'ottima ambush Cioè bloccare Delle creature E ucciderle Poi Un'altra mitica Del nice streetwise lookout Costo 3 Abbiamo uno scout 2 bianco E un 2-2 Leggendario Le creature Che controlliamo Che hanno forza 2 o meno Non possono essere bloccate Da quelle che ne hanno 3 o più Quindi ci dà un po' di evasività La parte bella È che se una trigger Di una creature Che controlliamo Con forza o 2 O meno Sta triggerando Viene fatta una volta addizionale Questo è ottimo Perché aiuta carte Che triggerano Sia sul danno Per esempio Le classiche creature piccoline Semi evasive Che diventano ancora più evasive Con questa carta qua Che dicono Quando ci danno Fai cose fighe O che ottengono Quando fai danno Fai cose fighe Perché insomma Hai curiosity Carte del genere Ma a prescindere Questa è un'ottima carta A tenere d'occhio Perché a prescindere Il secondo effetto Di fare la doppia trigger Va Basta che la creatura Sia debole Passatemi il termine Per dire Voi fate Eternal Witness Che appunto A forza 2 Le triggerano 2 volte Quindi recuperate 2 carte dal cimitero Adesso la prima carta Avete in mente Per farvi capire Però non c'è bisogno Che la creatura attacchi Le due cose sono slegate Non c'è bisogno Che faccia danno Il fatto di fare danno E rendere imbloccabile Tra virgolette È una cosa in più Incredibilmente utile Forte Quindi questo qua A tutti gli effetti È tappo 3 2-2 Che per alcuni mazzi È un palincrono Non palincrono Scusate Il panarmonico Quindi l'artefatto Gradopliava le trigger Poi considerate Gran parte delle creature Appunto Che si giocano Sono già costo efficienti Le creature con ETB Con effetti di entrata Sono spesso creature Costo efficienti Quindi piccoline E quindi vi costa davvero poco Metterle E fare le peggio cose Ma per dire Anche Muldrifter Muldrifter è un 2-2 Vuol dire Con questa carta Pescate 4 Questa è una bella mitica Che io otterrei Molto molto d'occhio Soprattutto anche questa qua Di nuovo per commander Non come comandante Perché Mono bianco Vi chiude un po' Ma il classico mazzo Bunt Multi trigger Che fa Favaglio Con tutte le creature Che ha Quindi Bunt Ephemerate Per intenderci Bunt Blink Questa è molto forte Anche perché Essendo una creatura È molto facile Tutolarla Perché è pieno di Tutori ottimi Per le creature Poi Altra carta Buried in the garden Costo 4 Non è male Perché allora Voi incantate Una landa Vostra Tendenzialmente Quando Entra nel campo Di battaglia Esili Un Permanente Non terra Fintanto che Avete il buried In the garden Quando La terra Incantata Viene tappata Per vengere mana Su controllo Attinge un altro Mana Quindi vi rampa E Vi toglie un problema Perché questa è una carta Tra virgolette Ottima Perché quegli effetti Di rimozione Di questo tipo Sulle Che incantano Le vostre terre Sono molto difficili Da interagire Una cosa brutta De questi effetti qua È che Degli incanta Creatura Insomma È che Se io ti spacco La creatura In risposta Ho comunque Artefatti O permanenti Con cui è facile interagire L'altro Ti fa un 2x1 Invece questo Però è un incanto La terra Difficilmente Quasi impossibile Che abbia Perché sono davvero poche Soprattutto una basica Un modo di spaccarvi In risposta La terra Che targettate E quindi Sostanzialmente Non Cioè Voi sicuramente Quasi sicuramente Riuscirete a togliere Un pezzo Con Buried In Garden Deve l'altro Deve per forza Fare Un anti-incantesimo Per riavere Il suo pezzo Però facendo L'anti-incantesimo Fa uno scambio Uno per uno A noi non va Così male E in più Perché sta carta Un po' vi ridà Il mana Se voi avete Cinque mana Potete fare Appunto Tappo 4 Incanto Una terra Che è ancora Stappata Non usata Per pagare il costo Di Buried In Garden E Poi Quella terra Che è rimasta Stappata La potete appare Vi da due mana Quindi comunque Ottimo Perché fa ramp E tolgo pezzo Tanto pezzo Che voglio Dice un permanente Non terra Quindi questa Anche qua Un ottimo uncommon Per soprattutto I massi Ovviamente Selesnia Enchantment Me l'aspetto dove Beh ovviamente Commander Ragazzi È un filo comune Oramai commander Si trova ovunque Inutile Che Inutile lamentarsi È così Ma Volendo anche Nei formati Più grindi E non ancora Col power level Troppo alto Come Pioneer Che non è del tutto male Si può pensare Poi Case of the stashed skeleton Anche un'altra carta Che secondo me Si può tenere d'occhio Perché è not bad Abbiamo Costo 2 Una carta Che ci fornisce Un caso Quindi una di quelle nuove Tipologie di carte Saghe lente Chiamiamole così Fa un 2-1 Scheletro Che si becca Un No È un segnalino È È uno stato Ok quindi Uno bisogna Deve ricordarselo Vabbè comunque Ha lo status Di sospetto Quindi vuol dire Che a minacciare E non può bloccare Questo in realtà È un problema In realtà Il fatto che Non possa bloccare Adesso vedrete perché Perché per risolvere Questo caso Non bisogna Controllare Degli scheletri Sospetti Se Riusciamo a risolvere Il caso Questo diventa Un incantesimo Che ha Tappa 2 Sacrificalo E fa tutore E fa tutore demoniaco Vi cercate Una carta Nel grimorio E la aggiungete Alla vostra mano Ma solo a sorcery Non è male Perché comunque È un tutore Demoniaco Tutti gli effetti Cioè può andare A prendere La carta che volete Quando riuscite a risolvere Il caso Ammazzarsi Lo scheletro 2-1 Ok che non può bloccare Non è così difficile Soprattutto se giocate Un mazzo Aristocrats Quindi questa Secondo me È una bella Staplesina No staples Dai esagero dai È una bella carta Interessante Dai facciamo Facciamo le cose Con poco hype Facciamo le cose umane È una carta interessante Per i mazzi aristocrats Perché si possono Ammazzare facilmente Lo scheletro Per esempio Se siete il classico mazzo Che gioca Il vampiric rights La Deadly dispute Quindi tutte queste cose Così Voi fate Turno 2 Questo Turno 3 Stappate Vi ammazzate Lo scheletro Ci pescate 2 Fate insomma Il classico bonus Per avervi ammazzato La creatura E poi dopo Quando volete Con calma Avete un tutore demoniaco Tanto comunque L'altro dovrà interagire In qualche modo Con anti incantesimo Non è che proprio Cioè Non è tempo efficiente Per lui E quindi È una carta interessante Ma anche per dire Calderone Sacrifico lo scheletro Ci sono mille modi Per ammazzarlo Ovviamente È molto più forte Che i mazzi Che hanno modi Di ammazzarsi lo scheletro Perché essendo che Non può bloccare Non è facile Se l'altro gioca un aggro Vi può attaccare Se voi attaccate L'altro non blocca Semplicemente Quindi Vi frega così Però Ripeto Negli auto sacrifice Questa è da tenere molto d'occhio Poi il fatto Che sia un permanente Costo 2 Lei Non è stupido Perché una volta Che andate in late game E siete un mazzo Di quel tipo Potete continuare A fare il recursion Di questo incantesimo L'urrus Mi viene una cosa in mente A caso Ragazzi Poi ci sono altri modi Ovviamente Per farvi capire il concetto Voi lo fate rientrare Questo incantesimo Perché l'avete sacrificato Perché è stato risolto Rifate lo scheletro Rimassate lo scheletro Perché avete già mai I modi di sacrificare Le creature facilmente E poi rifate un tutore Cioè Quindi Non male Non male Lui lo fatele d'occhio Perché C'è sta Poi anche Era rara Non ci può sta Poi Tomic Queste sono delle mitiche Che danno Nella Pre-release pack Quindi non nel set Ed è quella Che mi pare più interessante Ve la mostro Perché appunto Può essere Secondo me Un ottimo comandante Quindi tenetelo d'occhio Se volete giocare un mazzo Un po' Taxino Creaturino E roba così Ma anche in generale Da costruito Quello più competitivo Perché costa solo 3 mana E volendo di meno Allora Costo 3 Abbiamo Un colorless E due E orzov Un 2-4 Che vola E vigilance Quindi ha ottime statistiche Che ha affinità Per i planeswalker Per questo dico Un ottimo comandante Perché volendo Se avete più planeswalker Per terra Giocate classico mazzo Super friends Ve lo scontate E vi scontate anche la tassa Ogni colorato Un avversario Attacca con una creatura Se Due O più di queste creature Stanno attaccando Voi O un planeswalker Che controllate Loppo Per le tre vite E voi pescate Quindi punisce Tanto I mazzi Aggressivi Piccolini Che super aggressivi Perché spesso Dovranno attaccare Per forza Con due o più pezzi E quindi Perché è il loro mestiere E quindi voi Avrete Tomic che triggerà Facilmente Il tre vite È Tra virgolette Poco rilevante Anche se lui Comunque Avendo vigilance Fa una buona race A quel punto Perché vuol dire Che fa tre Per l'effetto E due Per l'attacco Quindi Tanti E in più ci pescate Che invece è molto importante Considerate che Magari l'altro Dirà al suo punto Non attacco Perché non voglio farvi Di triggerare questo Perché non riesco A vincereci la race E però A quel punto C'è guadagnato Per il fatto Che non mi hanno attaccato Quindi Buono Guadagnate tempo Per il fatto Che l'altro Non può attaccare Long goodbye È una carta Non posso valutare Soprattutto per lo standard Ma anche Perché è appunto Raffine Carte così Ma anche Pioneer È una rimozione ottima Perché il fatto Che non possa essere Counterata Aiuta tantissimo In questo momento Perché è pieno Di carte Con word Infatti l'hanno fatto Opposta Per limited Per word E l'hanno fatto Opposta In standard Per le carte Con word Perché Perché oramai Xproof Non lo stamperanno Più di tanto In realtà Ce n'è Carte Che continuano uscite Con Xproof Ovvio Per carità Però non è più Il default Prima la wizard Come faccio a creare Una creatura Che non venga toccata Dall'avversario Ah boh Ficchiamoci velo Parlo di tantissimo Tempo fa Che però Bella sfiga Che non puoi toccarla tu Ah ma che palle È brutto Perché tu non puoi Giocarci le tue cose sopra È Un'anti-sinergia Allora che facciamo Gli ficchiamo Xproof Ah ma cavolo Xproof è troppo brutto Perché è praticamente Impossibile interagirci Se tu sei l'avversario Ci sono mille modi Di renderle Troppo grosse Fighe Efficienti Non va bene Quindi cosa hanno fatto Hanno fatto Word Che sostanzialmente Ti crea delle condizioni Ma Meno Imponenti Però Word dice una cosa Molto importante Dice che La spell Abilità Che targetta La creatura in questione O l'oggetto in questione Non Non è che flizza O viene Non può essere lanciata Dice Viene Counterata Viene neutralizzata Quindi se la vostra spell Non può essere neutralizzata Il word dell'altro Lo guardate Gli fate una Pernacchia E quindi Da lì Non è affatto male Poi No more lies Questa cambierà tantissimo Pioneer Standard Perché ha tutti gli effetti Un malalik L'unica cosa che dovete fare È azorius C'è poco da dire Non ci ho parlato da tanto Neanche nell'altro video E quindi Non mi sto a ripetere Però questo è un uncommon Con i controcoglioni Poi abbiamo Fugitive Codebreaker Che è una rara spoilerata Oggi Perché È incredibilmente forte Ed efficiente Perché appunto Costo 2 Avete un 2 1 Prowers Ed haste Che se La girate Con disguise Dopo che l'avete giocata Fate scarto mano E pesco 3 Costa 6 Fare il disguise Girarla Però Costa 1 in meno Per ogni sorcerista Nel cimitero Quindi O la giocate di faccia Così ed estremamente aggressiva Super late game Può essere facile Fare tipo tappo 4 Perché Tre ma No anzi di meno Tappo solo umana Per metterla giù No Bugia Ok Sì esatto Ho capito giù Soll'inizio Tappi 3 Per metterla come 2-2 E poi la giri Col mono rosso E quindi tappo 4 E faccio Scarto e pesco 3 Quindi Non vi scartate quasi nulla Vi scartate carte inutili E poi pescate Dopo Gang Che invece è una caratteristante Perché Anche se ha Triplo X E poi Simic Avete una sorcery Che praticamente Targetate fino a X Permanenti E create X token Che sono copie Quei permanenti E ottima per i mazzi Che vogliono andare Facilmente infinito E fanno cose rotte O che hanno tante carte Con ETB Perché riuscite a fare Delle cose belle spicy E se avete tantissimo mano Avete rampato tanto E per Simic È facile E quindi questa è una carta Io che terrerei anche d'occhio Tra l'altro È raretta Quindi può essere interessante Sempre per Commander Spero questo video Se è piaciuto Noi ci vediamo al prossimo Ciao ciao Fate i bravi Grazie a tutti